Abbiamo ragazzi la nuova regolamentazione sulle criptovalute detta MICA Quindi quello che c'è da sapere lo riassumiamo brevemente all'interno di questo video e poi ne parleremo Ne parleremo, non dico mica tanto, ne parleremo un po' E qualcuno dice già ai filosofi del mondo cripto che con questa nuova regolamentazione l'Unione Europea si sta suicidando Vabbè, l'Unione Europea si è suicidata d'amore ragazzi, ve lo dico Dal mio punto di vista quello che vi racconterò oggi in breve è quello che accadrà in tutto il mondo occidentale, anche negli USA Poi ci saranno stati autonomi che invece ci ospiteranno, sono quelli dove andremo a vivere Sto scherzando eh, mica tanto, mica tanto Battute a parte, andiamo nei fatti Allora oggi vi darò le notizie più importanti, le riassumiamo così Tracciabilità, ne abbiamo abbondantemente parlato dei portafogli non custodi all'interno di questo canale Quando le superfenomeni dicevano no, non è possibile, come fanno? Adesso non so, c'è scritto anche qui Tassazione, ci sono anche delle novità sulle tassazioni Proof of work e mining Che cosa hanno deciso dall'Unione Europea? E soprattutto quando entrerà questo mica tanto in vicore? Mica tanto Mi piace sta battuta, mi piace Insomma, provo a dirvi tutto, seguitemi bene Le buone notizie Cioè, buone notizie Poi fate voi, se sono buone, se sono cattive, fate voi Lascio a voi il giudizio E' arrivata questa nuova approvazione, no? Della regolamentazione del Markets in Crypto Asset La cosiddetta famosa Mica E quest'ultima Non prevede, udite, udite, udite bene Nessun ban per il proof of work e per il mining Il resto era fuffa Ricordate la fuffa, no? Vieteranno il mining, il proof of work Siamo in democrazia ragazzi Questa democrazia L'Europa è un paese democratico L'hanno detto così per poi dirci Oh ragazzi, sappiate che siete in democrazia Abbiate prezienza Insomma, tutto come previsto Tracciabilità Questo è il tema più importante dal mio punto di vista Sono stato uno dei primi a spiegarvelo Nostro meccanismo all'interno Su YouTube perlomeno Non è per tirarmela ragazzi Però, insomma, quando si parla di tracciabilità Movimentazione, eccetera, eccetera Qualcosina giusto, qualcosina La so, diciamo così Non fosse altro che C'ho un'esperienza Sfiga ragazzi Di agenzia delle entrate Movimentazione tutte strobe Ecco qui, dai Parte le battute Entriamo nel merito Quindi, cosa accadrà? I vari exchange I vari nexo I vari provider Quindi Binance, Cracker E anche gli altri provider Che fanno altri tipi di servizi Saranno tenuti a raccogliere Dicono Tutte le informazioni E ad applicare misure di due diligence Rafforzate Rafforzate Rispetto a tutti i trasferimenti Che coinvolgeranno portafogli Non custodial Quindi, proviamo a modificarla ancora La verifica dell'identità Del titolare effettivo Del portafoglio Non custodial La verifica dell'identità È una contraddizione Ti capisco Però seguimi Del portafoglio Non custodial Sarà obbligatoria Per tutti quei trasferimenti Che vengano effettuati Da o Verso Verso Il portafoglio Appartenente Al cliente Del Casp Casp sta per Crypto Asset Service Provider Di exchange Inexo E sta roba è qui Ok La verifica dell'identità Avverrà Per tutte quelle transazioni Da Un qualcosa di centralizzato Verso un decentralizzato E dal decentralizzato Verso il centralizzato Perché il centralizzato Dovrà comunicare L'indirizzo pubblico Che si riceve Del decentralizzato O che Invia Del decentralizzato Ovvio Oltre all'indirizzo pubblico Anche tutti gli altri dati Chiaro il ragionamento? Andiamo ancora più a fondo Però un attimo di attenzione Piccola parentesi 6 luglio 6 luglio Ore 21 Una giornata Una serata Un paio d'ore Passate in libertà Insieme a noi A tutto il team Degli autori Dell'accademia Chiamala come ti pare Di Cryptogenesis Devi decidere Se seguire Gli euromani I truffatori Questo è quello che devi fare Nei prossimi mesi Anni che vengono Oppure se vuoi Entrare in maniera Consapevole Informata Nel nuovo mondo Che il nuovo mondo Crypto Che ha delle beghe Che ha di fronte a sé Delle grandi sfide Dove passeranno Dei grossi temporali Degli uragani Ma come vedi E come ti viene confermata Anche da questa regolamentazione Esisterà in futuro Quindi considerati Ancora un pioniere E in atto Una speciazione Chi vuole prendere La strada giusta Corretta E farlo in maniera Consapevole Informata All'interno di un'accademia Dove ci saranno Autori specifici Per quanto riguarda Il mondo degli NFT Grande opportunità Di guadagni Il mondo del gaming Autori specifici Il mondo della fiscalità Gli autori siamo noi Noi intendo Io e il mio team Autori relativi Alla DeFi Ognuno che parla Perché sa Quel campo d'azione Vuoi conoscere Questo team Facciamo questa giornata Di presentazione E in atto Un cambiamento Incredibile Nel mondo Non si può Essere informati A spizzichi e bocconi Su video brevi Dove tutti sanno Tutto di tutto Su Youtube Su Twitter Su sti social qui Ma in maniera Organizzata Vi presenteremo Che cosa Abbiamo programmato Previsto Fatto Realizzato Ok Questa serata Del 6 luglio Ore 21 Una accademia Dal mio punto di vista Unica In basso Trovi il link Di descrizione Ma torniamo a noi Dicevo In sostanza Tutti i tracciamenti Saranno tracciati Come quelli tradizionali A prescindere Che si tratti Di portafogli Non custodial O meno Il trasferimento Parte da un exchange Centralizzato E va verso Un decentralizzato Per arrivare A quel decentralizzato Tu mi devi dare L'indirizzo pubblico E io Quel di indirizzo pubblico Lo comunicherò Scusate Alle autorità Competenti Con tutti i dati Quel portafoglio Non custodial Sarà assegnato Al proprietario Di quello Che ha inviato Fino a prova contraria Fino a prova contraria Vuol dire Che se c'è una fattura C'è una donazione C'è qualcos'altro Allora dovrò indicare In quell'atto Di chi è Quel decentralizzato A quel punto Lo seguirò Per tutto il percorso E qui questa cosa Noi ne abbiamo parlato In maniera abbondante Con un ospite speciale L'amministratore delegato Di The Rock Trading Andrea Medri In una delle tante puntate Dello show Libertario Qualche mese fa La cosiddetta travel rule Questa regola Richiede Che le informazioni Sul cedente E sul beneficiario Degli asset In sostanza Tra il portafoglio Che invia E il portafoglio Che riceve Queste informazioni Viaggino tutti insieme All'interno di questa transazione E che siano quindi Archiviati nel sistema Su entrambi I lati Del trasferimento Morale I fornitori Di servizi Provider I cosiddetti CASP I vari exchange I vari Noi I vari piattaforme Saranno obbligate A fornire Non solo le informazioni Che attualmente Forniscono No All'OAM All'anagrafe L'abbiamo chiamata Delle criptovalute Che attenzione 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 Nascerà anche A livello europeo Ci sarà A livello europeo Non dovranno fornire Solo le informazioni Che riguardano Loro Ma anche quelle Del ricevente Anche quelle Del portafoglio Non custodial Da cui In cui Arriveranno No Le cripto Che spediscono Dal centralizzato A queste informazioni Potranno accingere Tutte le autorità In caso di Riciclaggio Di denaro In caso di Finanziamento Al terrorismo Voi non siete Nei riciclatori Nei terroristi Però Questa è la sostanza Ora Su questo aspetto Sentirete Una discussione Abbastanza accesa Nei prossimi giorni Sulla privacy La privacy Quando sento parlare Di privacy In Unione Europea E in Occidente Non cambia In altri continenti È un po' come Quando sento parlare Di democrazia Mi fa sempre Lo stesso effetto Quindi come vi ho detto Nascerà Questa anche Banca dati Che prenderà Queste informazioni Ma inoltre Ci sarà Un registro Di tutti I CASP Non conformi Non vigilati Che non opereranno Seguendo queste Lineguida Oscuramento del sito È la conseguenza Utilizzerò il VPN Collegandomi In un altro paese Dove quella piattaforma Sarà raggiungibile Quelle sono soluzioni Che vedremo Questo è quello Che dice il regolamento Ora Attenzione Attenzione Altro passaggio Importante Che dobbiamo Secondo me Inquadrarlo All'interno Dello scenario geopolitico Che stiamo affrontando Il Parlamento Ha adottato Una risoluzione Che prevede Entro l'entrata in vigore Del MICA Di cui adesso parliamo Di trovare Una linea Omogenea Tra tutti i paesi Dell'Unione Europea In relazione Alla Tassazione Abbiamo detto All'interno di questo canale Che trattiamo anche Altri temi Non solo quello cripto Che l'Unione Europea In sostanza Come Stato Non esiste Come Cioè Non è negli Stati Uniti D'America Perché non abbiamo Una difesa comune Non abbiamo Un welfare comune Abbiamo dei fondi Che sostengono Un welfare diverso Ma non comune Non abbiamo Un sistema di fiscalità comune Tutto ciò C'è stato rappresentato Dai vari Macron Draghi Negli ultimi mesi E come La necessità Di arrivare Quello sarà Il punto di atterraggio Non ci si atterra lì Perché per prendere Queste decisioni L'Unione Europea Deve passare Dalla votazione No In Parlamento E su alcune tematiche Ci vuole L'unanimità Ecco Allora bisogna cambiare Sta roba dell'unanimità Perché non funziona Dicono i vari draghi I vari Macron Eh ma per cambiare L'unanimità Bisogna cambiare i trattati Perché Per cambiare i trattati Bisogna votare All'unanimità Quindi capite Che non se ne esce Il motivo Per cui Io prevedo Che nei prossimi mesi Vedremo Collassare Crollare Questo modello Di Unione Europea Per vederne nascere Uno nuovo Che permetta A quel punto Sì Una votazione A maggioranza Su tutte queste tematiche Se questo sarà L'obiettivo Naturalmente Capite Io ho un quadro A 360 gradi Di quello che sta avvenendo Sta avvenendo E che accadrà L'euro All'Unione Europea Nei prossimi mesi Bene La costruzione Di una nuova Europa Si baserà Su principi Di maggioranza E minoranza E non più Sull'unanimità E potremmo vedere In futuro Perché no Una tassazione Comune Anche per le criptovalute In tutta L'Unione Europea Entrata in vigore Di tutta Sta robina qua 24 mesi 2024 Gli analisti Trader Quelli bravi Dicono La prossima Burranna Il prossimo Alving Insomma ragazzi Stiamo assistendo Stiamo di fatto Entrando Nel nuovo mondo Cioè Vedremo dei grandi Uragani Vedremo delle grandi Tempeste Sul mondo Delle criptovalute Nei prossimi Mesi Ma Insomma Finitela No Lo dico ad alcuni di voi Finitela di dire Che questo mondo Non esisterà più Che faranno fuori tutto Succederanno grandi eventi Che potrebbero stravolgere Tante cose Ma che le cripto In futuro Non esisteranno più Dirlo ancora Nel 2022 Mi sembra veramente Folle Se vuoi cogliere Le opportunità Che ci sono In questo mondo L'invito che ti faccio Ancora una volta È alla serata Del 6 luglio In basso In descrizione Trovi il link Il 6 luglio Grazie a tutti.